buongiorno a tutti sono pietro di stefano in arte luca artigiano stiamo preparando un pannello con il microcemento in questo caso io sto usando l'ardex v1 ma naturalmente sempre si può usare qualsiasi tipo di microcemento abbiamo già fatto la prima mano e adesso partiremo con la mano finale e stiamo utilizzando un vrattone in acciaio che troverete in qualsiasi rivendita ecco adesso aspettiamo che il pannello va in asciugatura dopo di che lo andremo a combattere ma questo ve lo faremo vedere tra un attimo seguiteci ben ritrovati amici ecco come avevamo preannunciato abbiamo aspettato circa un quarto d'ora il tempo dell'asciugatura del pannello che adesso andremo a dividere e vi spiegheremo perché ecco adesso passiamo alla combattatura con una comune spatola in acciaio inox che troverete in qualsiasi distributore e vedremo il risultato della nostra combattatura ecco ho realizzato la combattatura del pannello che inizialmente come avete visto era bianco l'attrito purtroppo diciamo così ha causato delle righe nere delle strisce che potrebbero diventare andi estetiche per il committente che magari voleva il pannello bianco a questo punto la parte rimanente la faremo con un nuovo attrezzo una arrivata dalla famiglia azienda pavan si chiama anima anima è sempre una spatola che nella combattatura non lascerà assolutamente nessuna striatura nessuna macchia nera nonostante la forza mi permetto anche di forzare ma vi garantisco che quello che vedete non è una magia ma è un risultato di anima vi faccio vedere la differenza tra la spatola comune in acciaio inox e anima eccola signori questo cosa comporta comporta che adesso con anima tutti i decoratori tutte le persone tutti gli applicatori che vorranno fare una parete è un pavimento bianco non ci saranno assolutamente più problemi inoltre anima la potremmo usare anche per gli stucchi per i marmorini per gli spatolati in genere dove un colore possa non essere alterato resterà al naturale per come era stato rifinito in seconda o in terza mano anima naturalmente il consiglio dell'azienda pavan è quello di usarla visto il suo pregio solo ed esclusivamente per la combattatura abbiamo trovato la soluzione per tutti gli applicatori alla prossima buona giornata a tutti